Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova inquadratura zoomatissima dove vi parlerò di uno dei miei ultimi acquisti il gioco di carte di Catan, la versione per tanti giocatori, non quella per due giocatori e non è il gioco di dadi allora, intanto vi faccio vedere la scatola, è davvero carina devo dire, la scatola è la cosa più riuscita di questo gioco è un po' come quella di Catan però è in miniatura, vedete quant'è piccola qui dice 2-4 giocatori anche se in realtà è possibile giocarlo anche in 5-6 giocatori, 30 minuti, 8 più poi vi dico un po' i feels che ho avuto di questo gioco, andiamo ad aprire all'interno troviamo le istruzioni, molto molto lunghe, non so neanche l'inquadratura dove ci viene spiegato appunto come funziona il gioco, sono completamente in tedesco perché questa è l'edizione tedesca del gioco infatti non si capisce assolutamente niente e qua se giriamo troviamo tutte le carte da gioco, invece un po' a caso perché tanto vanno comunque sorteggiate, vanno ordinate quando si inizia il gioco troviamo, tra le tante carte troviamo allora facciamo così, ve le metto a posto per prima cosa troviamo tante, ma davvero tante, 15 per ognuna carte delle risorse del gioco di base queste non sono altro che le risorse del gioco di base fatte con questa nuova veste non plastificata, no in realtà è plastificata, però fatte un po' a mo' di bicycle diciamo non proprio così però quasi, scivolano molto bene, sono molto grandi, si tengono bene in mano e sono se non sbaglio come ho già detto 15 per ogni risorsa abbiamo questo mazzo qua che viene mischiato all'inizio della partita è posizionato così, faccia in su, sul tavolo del gioco dopodiché troviamo svariate altre carte tra cui una carta che serve per decidere il giro da cui si ruba non è mia intenzione spiegarvi come si gioca ragazzi perché ci vorrebbe un video molto più lungo vi faccio solo un po' un sommario di quello che troviamo troviamo 4 carte con i costi di costruzione ovviamente in tedesco dopodiché troviamo carte soldato, carte strada carte insediamento e potenziamenti per la città questo è tutto ciò che troviamo dentro la nostra edizione dentro la nostra scatola soldati che possono essere girati sul verso A o sul verso B strada, stessa cosa poi abbiamo insediamenti che se girati diventano città e potenziamenti città che questi sono un po' la cosa più figa che troviamo all'interno che sono, questi non sono sono tutti diversi tra loro ed è davvero figo perché ognuno vi dà un'abilità diversa quando costruiti come già detto non vi spiegherò assolutamente come si gioca si basa molto molto su katan di base ovviamente perché lo scopo del gioco è arrivare a 10 punti costruendo strade, costruendo soldati costruendo città e bla 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 l'unica cosa che non mi è piaciuta per niente è che viene completamente eliminato il fattore commercio con i giocatori del gioco cioè non ci sarà più quella fase di ok io ti do l'ana, tu cosa mi dai ma le carte verranno pescate dalle main dei giocatori ed è proprio questa secondo me la cosa che rende questo gioco assolutamente da non comprare il prezzo non è poi così alto stiamo parlando di 7-8 euro io l'ho pagato esattamente 7,90 una cosa del genere però secondo me non gli vale assolutamente perché annoia subito avrò fatto 3 o 4 partite a me che piace un sacco katan mi sono già annoiato perché intanto dovete pensare bene di comprare l'edizione italiana del gioco perché se comprate qualsiasi altra lingua sarà impossibile giocare perché vi assicuro che c'è molto da leggere sulle carte soprattutto nei potenziamenti città dovete sempre sapere quello che fai non è così facile ci si perde un po' ma poi anche in generale dietro le strade hai spiegato come funziona eccetera eccetera perché non c'è un altro modo per vedere queste cose se non leggerlo qui o nel manuale di istruzioni quindi insomma vedete voi questo è un po' tutto quello che avevo da dire era più un unboxing questa qua infatti come vedete dal titolo del video però mi sento anche di dirvi la mia opinione riguardo a questo gioco cioè non compratelo potete investire meglio i vostri soldi volevo provarle a comprare spero di trovarlo la versione di katan il duello quello per due giocatori secondo me quello è molto più interessante di questo e niente questo è un po' tutto quello che volevo dire del gioco ho fatto questo video perché non ho visto molti altri e fare quello che ho fatto io spero di essere stato utile a molti in dubbio sull'acquisto tra l'altro ho visto anche il contrario niente questo è quello che avevo da dirvi su katan il gioco di carte noi ci vediamo in un prossimo video grazie a tutti